La musica che unisce, che crea spettacolo, mobilitazioni e soprattutto solidarietà sarà una vera maratona, quella che andrà in scena alla Rocca Malatestiana di Fano con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai 5 comuni della provincia pesarese colpiti dall'alluvione del 15 settembre scorso, Cantiano, Frontone, Cagli, Serasantabondio e Pergola. Intitolato con il cuore nel fango, l'evento si svolgerà domenica 23 ottobre dalle 14.30 alla mezzanotte. Il biglietto, dal costo di 10 euro, potrà essere acquistato sia sul posto che in prevendita alla biglietteria della Rocca, al botteghino del teatro, all'ufficio turismo e in alcuni punti vendita dell'entroterra. Con il biglietto verrà rilasciato anche un braccialetto per accedere all'imponente Fortezza, che ha una capienza di 800 persone. Inoltre, sarà possibile fare una donazione tramite IBAN. I protagonisti, invece, saranno le oltre 50 band e gli artisti del territorio che si alterneranno, dal DJ set di Benvenuto fino a tardasera, intorno agli ore 20, però spazio alle testimonianze, come quella di un musicista delle zone alluvionate, rimasto senza strumenti. Saranno presenti anche le associazioni che si sono adoperate durante l'emergenza e le bande cittadine di Fano e Cantiano che suoneranno l'inno nazionale. L'evento è patrocinato dal comune di Fano. Ma ti hai detto un evento senza precedenti per il nostro territorio? Lo confermo perché in realtà io credo che così tante band e ospiti musicali tutti insieme del territorio non sia mai successo, almeno a memoria mia. Poi, anche perché, sempre a memoria mia, per la prima volta c'è questo forte legame costa-entroterra, quindi Fano che si mette a disposizione per accogliere i musicisti dell'entroterra insieme con i ragazzi fanesi, quindi ci sono tanti bei messaggi dietro questa iniziativa. Come gestirete questi mini concerti? Allora, questa è la domanda del giorno, però cercheremo di farlo attraverso un meccanismo che è quello della maratona, maratona concerto, un termine che abbiamo inventato e clonato per l'occasione. Saranno due palchi che si alterneranno e su questi palchi le band avranno dei set da 15 minuti, quindi mentre una band suona su un palco 15 minuti, l'altra si prepara sull'altro palco sempre nei stessi 15 minuti per avere poi il suo spazio. Invece nei giardini della Rocca saranno presenti due food truck che partecipano alla causa benefica devolvendo l'intero incasso. Quando Mattia mi ha chiamato per partecipare a questa cosa, io mi sono proposto, mi ha detto se vuoi che ti aiuti a chiamare, a coinvolgere, ci sentiamo giorni, ma nel giro di 48 ore già la città aveva risposto alla parte musicale, ma in questi giorni stiamo vedendo che anche anche proprio i cittadini, tante persone stanno rispondendo, quindi speriamo assolutamente che la Rocca sarà colma, colma, colma di gente, tutti con il cuore nel fango, ma anche il cuore, non vorrei essere volgare, nel portafoglio perché dobbiamo anche aiutare, perché queste cose sono belle da vivere, in un momento difficile sono belle da vivere a pieno, non risparmiamoci. Sindaco, comunità, personaggi, artisti, tutti uniti nel segno della solidarietà? Questa è una bella cosa perché è un'iniziativa di tutti, è un'iniziativa di un territorio esteso, non è una festa, è un evento che organizza Fano, lo si organizza Fano ma tutti si sentono partecipi, tanti giovani, tanti giovani musicisti che è un'occasione di vetrina, quindi è anche un momento di incontro, ma soprattutto è anche un'occasione che con la nostra presenza è un nostro piccolo gesto, diamo anche un contributo concreto per aiutare chi è stato colpito dall'alluvione.